La questione della centralina Inco è stata il fulcro del dibattito nel corso del Consiglio di Quartiere di Verta di martedì sera. I residenti hanno chiesto all'amministrazione di arrivare ad un dunque per risolvere un problema che va avanti da diversi anni. E ieri c'è stato l'atteso faccia a faccia tra il sindaco Paolo Marchioni e il geometra Rusconi in rappresentanza dell'azienda che avrebbe dovuto realizzare la centralina. Non ci sono stati baci ed abbracci metaforicamente parlando, anzi ci sono stati toni decisamente duri. Siamo francamente stufi di una problematica mai risolta e che dura da tre amministrazioni. La convenzione risale alla giunta Quaretta. Questa situazione, così Marchioni, va risolta una volta per tutte. Noi non siamo più disponibili a sentire altre parole e chiacchiere che poi il vento porta via. Non siamo più disposti a tollerare rinvii e prese in giro. Entro due settimane vogliamo una risposta alle nostre richieste che sono ragionevoli e si basano sugli accordi che sono stati presi dalle parti. L'amministrazione ha chiesto un cronoprogramma certo sui 200.000 euro di lavori che Inco avrebbe dovuto fare e non ha mai fatto, in particolare sulla fognatura in via 11 settembre, intervento che avrebbe permesso di risolvere i problemi relativi agli allegamenti alla ludoteca. C'è la richiesta di un ulteriore indennizzo alla città per l'occupazione della cantiere ben oltre i tempi stabiliti e si pretende l'immediato sgombero dell'area di fronte alle scuole. Se non ci saranno risposte definitive e passi concreti, siamo pronti a far valere le nostre ragioni sulla base dei contratti sottoscritti. Ha concluso Marchioni.